Di Como, anche lei, della fuori sportiva di Fino Mornasco, è stata anche lei a parte dell'esercito e del caporal maggiore, forza adesso vediamo di mettere tutti sull'attenti con un esercizio all'altezza. Mezzo giro in presa cubitale, una piantata e caccio a gambe unite, una piantata e caccio a gambe aperte, due grandi difficoltà, in Tarzan, un passaggio dallo stagio basso allo stagio alto, gran volta, il caricamento per il doppio teso, ben eseguito, solo una piccola divaricata delle gambe durante le due rotazioni, però l'esercizio è...